Non ci si ferma neanche durante il periodo natalizio. Il tennis tavolo nocera, come di consueto ogni anno in prossimità delle feste, ha organizzato il proprio torneo sociale, che ha visto la partecipazione praticamente di quasi tutto l'organico effettivo, e dove sono stati messi in pari occessi natalizi e gadget sportivi. Il torneo è stato vinto da Andrea Massinelli in finale contro Francesco Longobardi, il quale quest'ultimo si è giudicato il torneo di doppio con Giuseppe Di Lauro. Semifinalisti invece Rosario Bidiardo e Vincenzo Palmieri nel singolare. La compagine, che intanto prosegue i propri allenamenti alla palestra Marco Polo di Nocella Superiore, ha partecipato ieri al memoria al pino senatore presso la palestra di Cavali di Reni, mentre sarà impegnata tra domani e dopodomani ai tornei open che si svolgeranno a San Nicola la Strada in provincia di Caserta. Si comincerà il 29 dicembre, quando scenderanno in campo i pongisti di sesta e quinta categoria, dove la società del padron Giovanni Landino sarà presente con otto atleti ai nastri di partenza. Il 30 dicembre invece, che concluderà la due giorni di tennis tavolo, sarà il turno della quarta categoria, con i rossoneri Francesco Longobardi e capitano Rosario Bidiardo pronti a scendere in campo. Per quanto riguarda i campionati, invece, si riprenderà nel 2023 e più precisamente il 14 gennaio. In C1 la squadra nocerina sarà di scena in quel di Catanzaro, in D1 match casalingo contro Cava dei Tirreni, mentre la D2 giocherà in trasferta contro il Napoli. Sì, era una partita complicata, lo sapevamo. Noi eravamo reduci di un passo falso, anche perché avevamo giocato in formazione rimaneggiata la volta precedente. Siamo andati ad Avellino e l'abbiamo espugnato con difficoltà, ma la vittoria era in preventivo. Quindi chiudiamo come primi il girone d'andata, diciamo abbastanza secondo previsioni. Chiaramente quest'anno c'è stato un dirottamento da parte mia sulla D1 per dare spazio alla C1, al club di giovani. Tutti i ragazzi, grazie al nuovo innesto di Alessandro De Luca con Francesco Longobardi e Roberto Ambrosino, che si stanno ben confermando in C1, hanno mantenuto il secondo posto inaspettato rispetto alle previsioni. Quindi era giusto che giocassero loro e che io facessi un passo indietro per dare una mano in D1 e cercare di portare a casa un altro campionato. E quindi diciamo che sta andando tutto secondo le previsioni, anche più rose per quanto riguarda il campionato di C1. Sì, questo è un bel segnale, ma è anche il premio allo sforzo che viene fatto dal presidente Giovanni Landino e da mister Cufano, che si dedica quotidianamente al vivaio, alla preparazione dei ragazzi e quindi anche ad accogliere chi è alle prime armi, cercare di mettergli una racchetta in mano, di impostarlo da zero. Quindi diciamo che questo costa enorme fatica e grande impegno, però quando poi la palestra è piena, il movimento cresce, siamo tutti contenti e quindi abbiamo anche un ricambio per gli anni prossimi, i campionati futuri. 2023? 2023 vediamo, speriamo di continuare su questa scia, quindi di confermare la D1 e speriamo la vittoria di campionato. e non ci nascondiamo ovviamente, e la C1 se l'andamento è questo, mantenere un secondo posto, anche terzo posto, che era insperato all'inizio di campionato, anche perché sottolineiamo che questo è stato il primo anno dove ci siamo imbattuti in un girone siculo-calabro che ci ha visto appunto per la prima volta fuori i confini della regione e incontrare avversari nuovi che non avevamo mai incontrato anche con un livello medio-alto e quindi diciamo che questo è un premio anche per gli ottimi risultati che stiamo ottenendo.